ciao ragazzi e bentornati questo video lo vorrei dedicare al dottor vaciago direttore di tutto sport mi verrebbe da dire tutto juve per quello che vedo ogni volta e anche lì vorrei farle una domanda dottor vaciago le do anche del lei guardi un po quanto sono educato io capisco che a torino bisogna vendere copie e riempire la pancia dei tifosi della juventus ma non si fa schifo a pubblicare certe cose in rete e a scrivere certi titoli in prima pagina fosse una testata di parte capirei eravate convinti a gennaio di sorpassarci poi adesso siete a meno 15 di fatto il campionato se non è finito ci siamo quasi ok e allora lì capirei il rosicamento e il bruciaculo ma siccome parliamo di un quotidiano nazionale la responsabilità è maggiore rispetto alle altre state facendo passare una narrativa anti inter quest'anno perché se torniamo agli altri anni io staremo qua fino a domani mattina da dicembre fino ad oggi che è allucinante e tutto questo genera odio da parte degli altri ma poi anche lì polemiche su cosa su cosa su 27 giornate due episodi posso dire che sono netti a favore dell'inter secondo me il gol contro il genoa all'andata ok e il gol di frattesi dove andava annullato per fallo in attacco di bastoni però nessuno dice che in quella partita il gol dell'1 a 1 del verona nasce da un fallo di magnani su arnautovic e che la punizione da cui nasce il rigore all'ultimo minuto non doveva nemmeno esserci ma va bene lì eh cioè di cosa stiamo parlando guardate che me le ricordo tutte le cose che avete scritto a dicembre napoli inter boom con l'aiutino con l'udinese non ne parliamo a gennaio campioni d'inverno in quell'infausto inter verona e anche lì vi ho citato tutto quanto quello che non è andato a favore e a sfavore ok col monza mettiamo prima il rigore di gaiardini e poi tutto il resto lì in prima pagina in quel trafiletto la classifica delle ammunizioni e anche lì se io ho più volte il pallone rispetto a te è normale che tu devi rincorrermi e farmi fallo la juve gioca di rimessa praticamente da tutta la stagione ok che non è sbagliata è come cosa attenzione e fino alla ventisettesima giornata non ha mai ricevuto un rigore contro ok però di questo non ne parla nessuno è normale che hai più ammunizioni rispetto a me se tu giochi in quel modo e io gioco in un altro modo o no e lì non serve la faziosità serve la logica la logica se io ho il pallone più di te è normale che tu mi debba rincorrere e di conseguenza devi fermarmi di più rispetto a me che ho più volte il pallone rispetto a te chiaro il concetto e arriviamo all'ultima porcata inter non hai bisogno di questo e ripeto quest'anno si è creato un putiferio su episodi che poi sono stati prontamente smentiti ma ci rendiamo conto quando ho visto quest'anno gol dati su controlli di braccio anche lì ci hanno detto che le immagini non erano chiare quando abbiamo capito noi da casa che quello era un fallo di mano netto e il gol andava annullato ma lì al var non si capisce cosa è successo abbiamo visto rigori non dati e rossi diretti di conseguenza anche lì al var spento muto e tranquillo abbiamo visto anche i giocatori dare pugni e anche lì al var spento in quel caso però no la narrazione che l'inter in primi si è aiutata poi la squadra più forte ma di che cazzo stiamo parlando e chiudiamo con questa questo è un articolo online barella urlante disperato la sceneggiata per ottenere il rigore col geno a parte il fatto che si può discutere se quello è fallo o meno ma barella il colpo lo prende netto lo prende poi ripeto si può discutere se fallo o meno ma il colpo lo prende lui si fa male che senso avrebbe per lui fare quella sceneggiata ok c'è lì il colpo lo prende poi anche lì fate tutta una guerra morale voi voi che avete in squadra chiesa che è un simulatore anche lì come ne ho visti pochi e lì date anche un premio a scirea che è stato un grandissimo campione non solo della juventus ma del calcio italiano a gatti che prende a pugni la gente e date lezioni a noi di morale ma state scherzando io spero che l'inter veramente a questo punto quereli quereli perché tutta questa cosa sta veramente stancando io ne ho piene le palle perché questo non è solamente uno schiaffo in faccia noi ma è anche un danno d'immagine parliamo non di una testata di parte parliamo di un quotidiano nazionale sportivo un quotidiano che viene venduto in tutta italia ok che alimenta odio e fa depensare la gente perché facile dire quello che vuole sentirsi dire la gente è facile omettere però certe cose ma la realtà non si racconta mai per intero in tutti questi casi ok la realtà è che l'inter è prima ok con 55 di differenza reti è la miglior difesa il miglior attacco e ha frantumato tutti quest'anno fino a questo momento in italia poi vedremo in champions league ma la realtà è queste gli aiutini che dite voi alla fine sono stati prontamente smentiti e ripeto su 27 giornate due episodi ti hanno aiutato realmente due episodi su 27 giornate perché anche la juventus ha avuto diversi episodi a favore però prontamente oscurati se volete vi faccio tutto un elenco e non è solamente juve bologna è gatti doveva essere espulso miliardi di volte e anche lì var spento hanno fatto passare juventus verona all'andata come una partita rubata quando è stata una partita prontamente anche lì vinta con l'episodio di gatti che prende a pugni diurice quindi la juventus di conseguenza doveva rimanere in 10 cioè è tutto un casino che va avanti da inizio stagione e io ripeto spero che l'inter prendi provvedimenti noi testa bassa e pedrale e uniti e compatti fino alla fine ok perché è il momento adesso per rimanere uniti o meglio bisogna esserlo sempre io lo dico da inizio stagione che bisogna rimanere uniti e compatti ma a maggior ragione ora che il traguardo si fa vicino non dobbiamo pensare di aver già vinto e stare uniti attorno ai ragazzi che stanno facendo una stagione meravigliosa memorabile detto questo ragazzi fatemi sapere la vostra nei commenti e sempre forza inter e seguite la pagina per altri contenuti